Molte anche operazioni che sono state fatte, ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale, di fusioni tra entità diverse, sono state gestite spesso in una logica di sommatoria per cui si finiva per sommare due sette dirigenti, metterli insieme, non ponendosi il problema delle duplicazioni, anzi magari dando una qualche definizione, qualche titolo alle posizioni dirigenziali molto alle da farle sembrare vagamente diverse ma senza porsi minimamente questo problema. Ecco qui noi abbiamo bisogno di avere delle persone che vengano anche dall'esterno della pubblica amministrazione che ci aiutino e questa non è una questione tanto di norme, di legge, di riforme, ma proprio una questione di competenze che oggi non ci sono all'interno spesso della pubblica amministrazione, responsabili persone che abbiano competenze di fondo su piano dell'organizzazione e del personale.